Un sogno che piano piano si realizza. È così che oggi abbiamo accolto la notizia della presenza di una serie televisiva dedicata al Sindaco Pescatore nel Piano Fiction per il 2015, presentato dal direttore di Rai Fiction, Tini Andreatta e approvato dal CDA proprio questa mattina. E quanto raccontano dalla Fondazione Angelo Vassallo. Volti nuovi e tante attualità, titola il Corriere della Sera annunciando i racconti e i ritratti come quello del Sindaco Pescatore, che rientreranno nella produzione di Rai Fiction tra il prossimo anno e il 2016. La Rai ha quindi scelto importanti tematiche per una fiction civile e innovativa che guarda i linguaggi del web. Tra gli eroi civili c'è il Sindaco Pescatore, scritto da Lucarelli e soci. Racconta l'avventura del Sindaco di Polli, che ha ucciso per aver cercato di portare la legalità nel suo paese. Avrà il volto di Beppe Fiorello. Realizzare un film sulla vita e l'operato di Angelo, ci raccontano Dario e Massimo Vassallo, significa per noi realizzare un sogno cominciato nel dicembre 2010, quando con fogli volanti che non erano ancora un libro, ho bussato alla porta del mio amico produttore Guglielmo Rie, che ha subito capito il significato di questa storia. Portare avanti questo progetto è richiesto un notevole impegno che finirà da parte nostra solo quando lo vedremo in onda.